Ah ah ah, infima! Compriamo le uova di Pasqua! Ciao, io mi chiamo Sydney e oggi insieme ai gemellini Gigi e Lalla scegliamo le uova di Pasqua! Buongiorno! Quale uovo volete? Buongiorno Peppa, non lo sappiamo ancora. Prima ne dobbiamo scegliere queste uova. Vediamo quali piacciono di più ai nostri gemellini. Oh, quante ce ne sono! C'è proprio l'imbarazzo della scelta. Chi sa che cosa c'è dentro? Non si sente niente. Scusi signora Peppa, che cosa c'è dentro? Non lo so, per saperlo bisogna aprirlo l'uovo. Oh, ma allora apriamole subito! No, 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 bambini! Non possiamo aprire le uova nel negozio. Le uova si aprono dopo l'acquisto. Beh, allora compriamole tutte. Così poi in casa le apriamo tutte e decidiamo quale vogliamo. Sì, sì, compriamole tutte, tutte, tutte! Beh, io in realtà ho solo questi e non ci volevo comprare solo le uova. Potete scegliere soltanto un uovo ciascuno. Va bene. Vediamo un po' che cosa c'è. Oh, mi piace questo. Oh, fa un bel rumore. Lo voglio, lo voglio. Sì, 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 voglio questo. Bravo, ottima scelta. Oh, guarda, è un bianco con il nostro argobaleno. Sono sicura che dentro c'è qualcosa di bellissimo. Guarda che bell'uovo ho scelto. Va bene, brava. Ottima scelta. Peppa, paghiamo due uova. Ottima scelta. Facciamo il conto allora. Allora, 15 più 15, 30. Fanno 30 soldini. Ecco a te, Peppa. Bene. Questo è il vostro resto. Grazie. Andiamo. Torniamo a casa. Vieni, Lalla. Andiamo a casa ad aprire le uova. Aspettate un attimo. Peppa, ce l'hai un uovo più grande? Ah, sì, certo. Adesso te lo porto. Eccolo qua. Wow, che uovo grande. Quanto costa? 20 soldini. E infatti Peppa mi aveva dato proprio 20 soldini di resto. 10? 20. Grazie per l'acquisto e buona Pasqua. Buona Pasqua anche a te, Peppa. Ciao. Eccoci qua. Gigi e Lalla. Apriamo subito le uova, dai. Sì, apriamole subito. Allora, per te dorato o per te viola? No, al contrario. Urrà! Che bello! Non è dolore di vedere la sorpresa. Uovo! Sì, viva! Oh, guarda! È un uovo di cioccolato! Wow! Wow, che belle uova di cioccolato! Vediamo che cosa c'è dentro, eh! Mmm, che buon cioccolato! E che giocattolo è quello? Vediamo! Mmm, ma questo giocattolo non mi piace! Oh, vediamo, vediamo! Buono! Sì, adesso voglio montare il mio giocattolo. Sì, adesso voglio montare il mio giocattolo. Oh, non pulitate! Brum, brum! Brum, brum! Buongiorno! Posso avere un passaggio? Di parte! Oh! Brum, brum! Brum, brum! Brum, brum! Sì, mi, lo vuoi un po' di uomo? Mmm, grazie Lalla! Prendi anche il mio, dai! Mmm, grazie! Mmm, mmm! Mmm! E adesso apriamo il mio! Mmm! Oh, com'è grande! Vediamo che cosa c'è dentro! Oh, quante caramelle! Oh, guarda quante! Grazie, Sidney! Sì, grazie, Sidney! Di niente! Mmm! E tu? Lo sai già che cosa c'è nel tuo uovo di Pasqua? Buona Pasqua a tutti! Ciao! Mmm! Hmm! Grazie a tutti.